Sostenere crescita, innovazione e internazionalizzazione delle imprese è sicuramente uno dei pilastri dell'attività di casa depositi e prestiti e con questa consapevolezza che è stata ampliata l'offerta alle aziende affiancando ai tradizionali strumenti di supporto finanziario anche ai prodotti dedicati allo sviluppo del capitale umano e alla crescita delle imprese sul mercato domestico e internazionale due condizioni necessarie per lo sviluppo economico e sociale del paese. Per questi motivi CDP ha lanciato vari programmi di formazione rivolti alle PMI e alle mid-cap italiane in particolare la lounge CDP Simest Elite. Il successo dei corsi precedenti e i risultati tangibili del consolidamento e della crescita delle imprese hanno portato CDP insieme agli altri partner a lanciare la nuova edizione a ottobre. Dal successo della prima iniziativa abbiamo deciso di lanciare la seconda iniziativa che partirà ad ottobre del 2024 con un percorso di 24 mesi e delle attività in linea con la prima lounge che cercano di creare occasioni di networking tra l'ecosistema di elite che conta ad oggi 1400 imprese in oltre 23 paesi. Cercherà di accompagnare le imprese verso il mercato dei capitali tramite l'incrocio tra domande e offerta sia di capitale di rischio che capitale di debito. Cerca di creare tramite una formazione specialistica dei top manager in grado di poter gestire le piccole e medie imprese per farle diventare sempre più grandi e l'obiettivo è proprio quello di lanciare un percorso nei prossimi 24 mesi in grado di accelerare anche la crescita internazionale delle imprese proprio grazie al convolgimento di Simest. Tra le aziende che hanno beneficiato di questo percorso c'è la Mastelli SRL, azienda biofarmaceutica attiva nel settore della rigenerazione cellulare. Abbiamo partecipato alla prima lezione della lounge a dicembre del 2023 e abbiamo a lungo parlato dell'importanza della sostenibilità nelle nostre aziende e nel nostro futuro. Parlavamo già di sostenibilità in azienda però dopo quella lezione abbiamo effettivamente deciso di fare un passo importante da un punto di vista di statuto aziendale e siamo diventati una società benefit solo sei mesi dopo. L'accesso al network elite ci ha consentito di entrare direttamente in contatto in modo molto rapido ed efficace con altre aziende che si occupano di tante cose diverse rispetto a ciò che facciamo noi e questo ci ha consentito di agire con più rapidità su alcune competenze che stavamo cercando sul mercato. Oltre al network delle aziende elite abbiamo anche avuto la possibilità di confrontarci con cassa depositi e prestiti su molti temi di business per noi importantissimi. Se non avessimo partecipato alla scorsa edizione sicuramente parteciperemo a questa perché è stato un percorso che ha consentito di accelerare la nostra presenza sui mercati. Un esempio che dimostra come anche grazie al percorso svolto le imprese che hanno partecipato alla prima edizione della lounge hanno raggiunto una maggiore consapevolezza dei propri punti di forza e delle aree di miglioramento con particolare riferimento a strategia governance e finanza a supporto della crescita.